Nella scorsa lezione ci siamo soffermati sull'importanza dei progetti architettonici urbanistici delle commissioni chigiane di Alessandro VII e quindi dell'opera di Gian Lorenzo Bernini che reinterpreta i vocaboli, il linguaggio classico secondo i termini tipici dell'architettura barocca, la teatralità, l'amplificazione dello spazio, la dilatazione dei piani, questo senso scenografico di fondo. Mantenendo però, lo sottolineiamo ancora una volta, forme e caratteristiche tradizionali del mondo classico perché a differenza di Borromini che avrà l'opportunità, la volontà, la capacità di reinventare forme completamente nuove, combinazioni completamente nuove, Bernini resterà sempre legato alle forme tradizionali. Io vi ho scritto dal microscopico al macroscopico perché l'opera di Bernini ovviamente si incentra in entrambe le direzioni, ci saranno, come abbiamo visto nella scorsa lezione, opere di dimensioni ridotte e poi ci saranno opere colossali come l'accenno, lo vedete qui, il colonnato di San Pietro. Partiamo per esempio dalla Scala Regia. La Scala Regia era un ambiente realizzato ancora nel Cinquecento da Antonio da Sangallo il Giovane che doveva mettere in contatto i palazzi vaticani con la Basilica di San Pietro, utilizzando uno spazio incongruo, uno spazio irregolare, costituendo quindi una scala che appariva buia e sicuramente, diciamo, non della qualità e della monumentalità e del trionfalismo necessario in questa fase, diciamo, della pubblicistica romana. Bernini interviene in questo spazio facendosi forza dei punti di debolezza di questo spazio stesso, cioè si maschera la convergenza di queste pareti utilizzando la stessa convergenza per creare una sorta di cannocchiale ottico, uno sfondamento, che dà un senso di dilatazione prospettica incredibile. Come si fa? Utilizzando evidentemente una combinazione di colonne singole e colonne binate ioniche che vanno a ridursi gradualmente verso la luce che vedete sul fondo, luce che viene realizzata con l'apertura di una finestra che ha un forte valore simbolico perché si tratta anche qui di una sorta di percorso di iniziazione che ci porta verso la luce divina, verso lo Spirito Santo, e coprendo questo spazio con una volta a botte cassettonata, quindi il massimo dell'ortodossia, potremmo dire, del linguaggio classico greco-romano, che anche questa va a ridursi evidentemente verso la luce. Quindi uno spazio a cannocchiale che si riduce e si amplifica. Nello stesso tempo la testa, diciamo, dell'ingresso di questa scalinata, immaginata come una grande serliana, coronata da questo enorme stemma chigiano sorretto da angeli trionfanti, e sul lato trova posto una scultura gigantesca di Costantino e il Grande, una scultura equestre che appunto fa forza su un chiaroscuro potentissimo, su una potenza espressiva e dinamica che in qualche modo distolgono l'attenzione, insieme a tutto il resto del contesto del Trompleil, dalla irregolarità dello spazio, cioè la complessità, diciamo, di questa combinazione distoglie l'attenzione dalle irregolarità dello spazio. Questa è un po' l'idea di fondo dell'architettura barocca in chiave, potremmo dire, in salsa berniniana. Quando ci si sposta alla realizzazione dell'opera forse fondamentale della sua carriera, la realizzazione del colonnato di San Pietro, ecco, ci si trova di fronte agli stessi problemi di teatralizzazione, di simbolizzazione, di necessità tecniche, però portati all'ennesima potenza, perché si crea una struttura mastodontica, della quale, tra l'altro, Bernini ovviamente non vedrà la realizzazione finale. Qui ci troviamo di fronte almeno a tre problemi fondamentali. Il primo è quello di restituire centralità alla cupola michelangiolesca, che era stata coperta, vedremo per quale motivo. Il secondo è quello di minimizzare, in qualche modo, l'impatto, neutralizzare la massa dei palazzi vaticani, che sono laterali alla piazza, che non sono rettificati rispetto alla piazza stessa. E il terzo, più importante, è dare un senso simbolico, questo grande abbraccio ecumenico. Per quello che riguarda la cupola, cosa era accaduto? Nel Cinquecento abbiamo visto rimpallarsi la responsabilità della scelta tra una pianta centrale e una pianta longitudinale. Alla fine aveva vinto l'idea di dilatare lo spazio della grande basilica, facendola diventare una pianta basilicale, quindi longitudinale, tradendo in qualche modo il disegno di Michelangelo, ma anche di Bramante. In questo modo la facciata avanza e la cupola appare troncata. Cioè, se noi guardiamo la facciata da sotto, la facciata stessa, la chiesa da sotto la facciata, la cupola appare troncata. Non riusciamo a vederla. Nonostante Maderno avesse cercato in tutti i modi all'inizio del Seocento di mantenere la cupola bassa e piatta, creando questa cupola effettivamente non particolarmente brillante da questo punto di vista. Bernini aveva cercato di dinamizzare la facciata attraverso l'inserimento dei due campanili che dovevano essere più alti della linea, diciamo così, della facciata di Maderno, ma abbiamo visto che durante il regno di Innocenzo X, queste due, anzi ne ha stato costruito uno solo, questo campanile viene fatto distruggere, tra l'altro, rimuovere a spese di Bernini stesso. In questo caso Bernini deve realizzare un impianto urbanistico di più grande respiro, ha la possibilità di immaginare la piazza antistante la facciata e quindi semplicemente cerca di arretrare il punto di vista dell'osservatore in modo da riportare la cupola nelle giuste proporzioni. Quello che vi faccio vedere è cosa si vede allontanandosi gradualmente dalla facciata. Quindi l'idea è portare l'osservatore più vicino possibile al centro dell'abbraccio del colonnato dove si alza appunto questa grande obelisco che era stato già posizionato in opera da Domenico Fontana nel Cinquecento, obelisco di 25 metri, una cosa grandiosa, ma che rispetto alla cupola che vediamo di Michelangelo Buonarroti risulta qualcosa di abbastanza modesto. Quindi ovviamente l'idea è riportare indietro. E come si fa a riportare indietro? Con l'inserimento della piazza intermedia a forma trapezoidale che evidentemente recupera il modello anche qui Michelangelesco realizzato per il Campidoglio e che serve a dare la sensazione che la facciata sia più vicina di quella che in realtà è se guardiamo la facciata dal centro dell'abbraccio del colonnato che invece segue l'andamento di una grande ellissi. L'immagine che vedete sulla destra, molto scenografica, che vi fa vedere cosa intendeva Michelangelo Buonarroti, come si doveva vedere la cupola, ovviamente non è quello che ottiene Bernini perché come vedete il punto di vista è dal fondo della via della conciliazione che non esisteva e che Bernini non immagina neppure. Come si fa a neutralizzare la massa dei palazzi vaticani? Voi vedete questa che vedete alla vostra sinistra è la piantina, il disegno di come si presentava questo ambiente prima dell'intervento berniniano, l'asse verticale che caratterizza la basilica e i palazzi vaticani che sono disassati e posti in maniera disarticolata e incongrua rispetto a quest'asse. Cosa si fa evidentemente per risolvere questo problema? Si inserisce questa piazza intermedia trapezoidale e che tende a rettificare in qualche modo e quindi restituisce organicità a una struttura che è quella dei palazzi vaticani fondamentale perché è quella dalla quale ancora oggi il Papa si affaccia per fare la benedizione urbi e torbi che è la cosa fondamentale per quello che riguarda la piazza, cioè l'aspetto simbolico. E sull'aspetto simbolico dell'abbraccio non dobbiamo nemmeno scervellarci più di tanto perché ce ne parla direttamente Bernini dicendoci che essendo San Pietro quasi matrice di tutte le chiese doveva avere un portico che dimostrasse di ricevere a braccio aperte, a braccio aperte quindi ce ne parla direttamente, maternamente i cattolici per confermarli nella credenza, gli eretici, cioè i protestanti, per riunirli alla chiesa e gli infedeli, cioè i musulmani, per illuminarli alla vera fede. Quindi l'idea è proprio di questo grande abbraccio ecumenico. Abbraccio ecumenico che si doveva valere evidentemente di un terzo abbraccio che non fu mai realizzato che doveva fare da porta di accesso perché nell'idea di Bernini bisognava sbucare dal quartiere medievale che era fatto da un dedalo di viuzze scure, buie, strette con questa specie di portale colonnato affacciarsi alla grandezza, diciamo, della salvezza all'abbraccio appunto ecumenico. Quartiere medievale che vedete in questa foto d'epoca, quello che veniva definito la spina di Borgo e che fu completamente raso al suolo con la supervisione di Marcello Piacentini per celebrare, perché il fascismo voleva celebrare evidentemente i patti lateraliensi del 29 e quindi si decise di aprire la via della conciliazione. Via della conciliazione che ha un aspetto scenografico di qualità impressionante, eccellente, non è che la via della conciliazione sia stata studiata in maniera scorretta da un punto di vista dell'effetto, semplicemente Marcello Piacentini non tiene conto evidentemente degli studi, della volontà di Bernini e quindi in qualche modo si tradisce l'impianto originale berniniano. Ma questo è quello che succede evidentemente nel proseguo degli anni, quando si interviene urbanisticamente su una piazza, una città. Dal mio punto di vista è anche perfettamente corretto, nel senso che tutto sommato la storia va avanti, l'architettura progredisce e quindi ci sono varie fasi che si succedono e che lasciano una loro testimonianza. Importante, prima di passare alla conclusione, torno un attimo indietro, vi faccio vedere l'immensità del progetto berniniano. Immensità anche simbolica, questo abbraccio ecumenico doveva essere appunto l'abbraccio della Chiesa, il centro della Chiesa nei confronti di tutto il mondo. Si sta parlando di un colonnato di dimensioni in proporzioni impressionanti, 284 enormi colonne, 88 pilastri colossali, 140 statue che vedete a colonamento della balaustra che sta sopra il colonnato, ognuna di queste statue è alta, circa 3,20 m, quindi molto più grande del naturale. L'impostazione resta evidentemente un'impostazione estremamente classica, perché si parte dalle due testate che sono testate, due timpani di testa che sono evidentemente prospetti templari, che semplicemente invece di essere rettificati diventano curvi e costituiscono l'andamento di questo colonnato. Quindi i due colonnati sono fondamentalmente, le due braccia sono fondamentalmente due giganteschi templi sorretti da colonne mastodontiche. Il periodo, diciamo, di Alessandro VII è forse il periodo più impressionante per quantità e qualità dei lavori urbanistici eseguiti a Roma. Tra Urbano VIII e Alessandro VII cambia completamente il volto della città, va anche detto che si svuotano anche completamente le casse pontificie, per cui Bernini avrà l'opportunità di lavorare ancora sotto tre papi, Clemente Nono Rospigliosi, che è pistoiese, quindi ci interessa in maniera particolare, Clemente X, Atari e Innocenzo X, XI o De Scalchi, però non avrà più la possibilità di realizzare opere così complesse e così grandiosi, anche se ci sono interventi molto importanti, mi viene in mente il complesso di statue del ponte di Castel Sant'Angelo, ma tutta una serie di altri interventi. Interessante in questo caso la caricatura che lui realizza di Innocenzo XI e De Scalchi perché ci parla della libertà con la quale lui si pone nei confronti di questi regnanti, perché il Papa è un regnante e oltretutto, oltre ad essere un re, ha anche il potere spirituale, quindi figure veramente di un'importanza suprema alle quali lui si rapporta con familiarità, con naturalezza, perché a questo punto è davvero un personaggio imprescindibile per l'arte romana ed europea in genere. Negli ultimi anni della sua vita lui continuerà a lavorare, ora noi purtroppo non abbiamo avuto la possibilità per esempio di analizzare il periodo francese, Bernini a un certo punto verrà mandato a Parigi, cioè la sua influenza è un'influenza assoluta da tutti i punti di vista. Anche negli ultimi anni, anche quando sarà molto anziano, continuerà a lavorare, a realizzare opere anche di grandissima qualità, soprattutto opere scultore, rielaborando degli schemi, dei modelli che evidentemente aveva già mostrato nel suo periodo di formazione giovanile e poi nella prima maturità. Potremmo vedere un'infinità di esempi, ve ne mostro uno perché secondo me è quello probabilmente più centrato per farci capire la qualità dell'artista. Qui si tratta, potremmo quasi di parlare di un déjà vu, qui si tratta dell'estasi della Beata Vidovica Albertoni che trova posto in Sant'Andrea, Sant'Andrea Ripa, realizzato nel 1674 e che evidentemente riimmagina e reinterpreta la transverberazione della Santa Teresa d'Avila che abbiamo visto essere l'opera più importante realizzata nel periodo del pontificato di Innocenzo X, cioè al momento in cui lui non ha la possibilità di realizzare grandi opere pubbliche e quindi si concentra sulle opere private. In questo caso, ovviamente, si tratta di un'opera di dimensioni più modeste, non c'è tutto l'apparato che abbiamo definito del bel composto fra le arti, la luce che piove, la scenografia dei parchetti laterali, la teatralizzazione, è però evidente che l'atteggiamento della Beata Ludovica Albertoni che evidentemente riprende quello di Santa Teresa d'Avila che si porta la mano al seno, che tiene la bocca semiaperta in deliquio gli occhi semi chiusi, è addirittura più potente di quello realizzato a questo punto molti, molti anni prima nella Santa Teresa d'Avila perché la sintesi diciamo della forma conferisce alla forma stessa un pathos, una passione, una passionità ancora più forte. Ecco, Bernini sarà questo, arbitro del gusto per un secolo intero, talmente importante da portare gli storici dell'arte, critici d'arte, a far combaciare e coincidere il termine barocco, il barocco romano con gli anni della sua attività romana, quindi 1620-1680. Barocco romano, possiamo dire che il barocco è Bernini.